Scusate, il video è un po' mosso, sto facendo un'oretta di camminata, come vedete c'è una pista fatta apposta, io l'ho fatto 40 minuti, la trova il camino, prevedo di fare un'oretta e una mezz'oretta di pesi a seguire. Bel sole, mi aspetta una grande giornata, andrò in escursione ai sassi di Matera alle 14, a dopo.